Una pianta dagli usi molteplici, soprattutto in ambito medico e industriale. È la canapa, a cui è interamente dedicata la fiera internazionale Canapa in Mostra, presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, che sarà ospitata nella mostra ad oltremare da venerdì 27 fino a domenica 29 ottobre. Una mostra che è sempre in grado di stupire per non soltanto le tante occasioni di intrattenimento, ma soprattutto di approfondimento. Un settore che può essere, anzi deve essere, perché no, una vera e propria strada innovativa per lo sviluppo anche sostenibile del nostro territorio. Quindi un grande bocca al lupo agli organizzatori e soprattutto l'invito a partecipare a questa iniziativa ricca di appuntamenti e ricca soprattutto di approfondimenti scientifici e culturali. In Italia, fino ai primi del Novecento, la canapa era tradizionalmente coltivata e lavorata, soprattutto per produrre corde e tessuti. E su carta di canapa furono impresse la prima Bibbia di Gutenberg e la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Grazie. 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 Grazie.